Pierluca Terzulli, giornalista, vice direttore del Tg3, per otto anni presidente della stampa parlamentare, due ospiti di grande rilievo politico e giornalistico che presenteranno il libro dell'onorevole Pisicchio su come funzionano le leggi elettorali, il tema centrale del dibattito pubblico, diciamo presidente, degli ultimi anni, non solo delle ultime settimane, 25 anni. Allora accogliamoli con un applauso, cedo la parola all'onorevole Pisicchio e a Pierluca Terzulli, grazie. Grazie Andrea, io innanzitutto vorrei cominciare questo nostro incontro con un duplice ringraziamento. Il primo è a Vito Miceli perché direi che in un paese come questo dove si legge così poco promuovere un festival di narrazioni, un festival letterario in un luogo di vacanze, in riva al mare, credo che sia una operazione da elogiare senza riserve. La seconda cosa è che io presento questo libro con grande piacere, non solo per la stima che mi lega a Pino Pisicchio da molti anni. Pisicchio, lo ha detto Andrea Licandro, è presidente di un gruppo importante e numeroso alla Camera dei Deputati, il gruppo misto, spesso decisivo, ma Pisicchio è anche uno dei parlamentari in carica di più lungo corso in questa legislatura. Però il mio piacere nel presentare questo libro è per la qualità che ha. Questo è un compendio di, se posso permettermi, di scienza politica e di diritto costituzionale che per il suo contenuto e per il linguaggio con il quale viene spiegato, io penso che dovrebbe essere distribuito a tutti i parlamentari che spesso parlano di questo argomento in termini un po' stravaganti, per usare un eufemismo, ma io direi anche per le scuole perché si spiega in maniera semplice e diretta un tema complicato ma nello stesso tempo importante. E io da qui vorrei partire citando esplicitamente il libro, nella premessa Pisicchio scrive so che l'argomento non è tra i più appassionanti eppure ha un'importanza decisiva ai fini delle dinamiche democratiche. Ecco, Pisicchio ci può spiegare perché? Sì, intanto buonasera a tutti e anche io vorrei esprimere in modo non formale un ringraziamento a chi ha voluto questo festival del libro e dell'approfondimento sulle cose scritte perché se si fermiamo alla narrazione io mi sento un ford'opera, perché è una narrazione poco appassionante come ricordava adesso Pierluca Terzulli, quella che racconta i sistemi elettorali. Anche se poi vedremo, ci sono come in tutti i gialli anche dei momenti carichi di mistero, di tensione e di grandi possibilità. Credo che tornare a leggere, tornare a riflettere con un riferimento che sia carta stampata, che sia dunque non solo Wikipedia, sia un'operazione che meriti tutto il nostro consenso e tutta la nostra partecipazione. Ma arrivo subito alla domanda che faceva adesso il dottor Terzulli. In realtà quando noi sentiamo parlare di formule elettorali, di sistemi elettorali abbiamo un momento disturbo perché sembrano degli arcani, delle cose disegnate ad uso di... insomma delle tavole sapienziali per gli sciamani. Ecco. Perché in fondo non pensiamo che la legge elettorale è lo strumento più importante di una democrazia, traduce il consenso in rappresentanza. Faccio un esempio molto concreto. Perché una legge elettorale è importante? Prendiamo un episodio che alcuni di noi, siete tutti giovanissimi, forse qualcuno non se lo ricorderà, ma qualcuno, forse io e il signore in prima fila ce lo ricordiamo. Nel 1994 si è svolta in Italia per la prima volta una elezione con il sistema maggioritario. Prima, i tecnici direbbero pseudo maggioritario, ma insomma intendiamoci maggioritario. Quello con i collegi unionominali, di quello che veniva fuori dal referendum di Mario Segni. Prima si votava con il sistema proporzionale. Bene. Un raggruppamento politico, che era quello a cui faceva riferimento Segni ed anche Martina Zoli, raccolse il 16% dei consensi. Era poco, era tanto? Non lo so. Comunque, con il 16% dei consensi portò a casa 33 seggi. Quattro nei collegi unionominali, per andare nello specifico, e 29 nella cosiddetta lista bloccata proporzionale. Domanda. A fronte dei 33 seggi presi in questa circostanza con il sistema maggioritario, con gli stessi voti, con il 16%, quanti ne avrebbe presi questo raggruppamento? Avendo un sistema diverso, cioè un sistema per esempio proporzionale, come era quello di prima, risposta 104. 33 contro 104. C'è una bella differenza, no? Probabilmente questo plus ultra o questo minus, diciamo, questa differenza di 83 seggi sarebbe stata tolta a Berlusconi, forse Berlusconi non avrebbe vinto. Non c'è una scelta politica in quel che dico, faccio solo una constatazione di tipo tecnico. Bene, i sistemi elettorali allora sono importanti, direi parecchio, parecchio. Un sistema elettorale che ti consente di scegliere il candidato è uguale al sistema elettorale che invece non ti consente di scegliere il candidato e mette tutti in una lista bloccata? Direi che non è uguale, insomma. Quindi è sicuramente questo lo strumento più importante della democrazia. Veniamo a un altro, diciamo, arcano, un altro elemento di questo giallo. Il fatto che, come lei scrive, in 24 anni noi ci avviamo alla quinta riforma elettorale, una situazione unica nel mondo democratico, dove i sistemi elettorali generalmente sono in vigore da tempo immemorabile. Ecco, perché noi abbiamo questo record mondiale? Sì, io mi sono posto questa domanda. Come mai? Gli Stati Uniti, per esempio, un modello di democrazia a cui ognuno di noi fa riferimento molto spesso, fanno una legge elettorale che è ancora quella dei padri pellegrini, cioè stiamo parlando del 1789, giù di lì, e quella è, quella resta, non è mai cambiata. I francesi l'hanno cambiata una sola volta, sono passati dalla quarta alla quinta repubblica e stiamo parlando degli anni 50 ed è rimasta quella. I tedeschi del dopoguerra nel 46, nel 47 hanno fatto la legge elettorale che ancora è in vigore e non l'hanno cambiata. Noi ne abbiamo fatte in 24 anni, in 24 anni ne abbiamo fatte 4, diciamo pure 5, perché comunque sia andremo a votare o con questi due sistemi che vengono dalla Corte Costituzionale, questi due pezzettini di sistemi elettorali che vengono dalle sentenze della Corte Costituzionale oppure con un'altra legge elettorale. Perché domanda il dottor Terzulli? Perché probabilmente noi abbiamo sempre cercato, o meglio, chi si è trovato negli ultimi anni a gestire una maggioranza ha immaginato di farsi la legge elettorale che andava bene a lui. Ed è una cosa sbagliatissima. La legge elettorale si dice, dicono i filosofi del diritto, vanno fatte con il velo dell'ignoranza. Non come intendono molti miei colleghi che sono veramente molto ignoranti, nel senso che non sono capaci di farle e non comprendono come funziona. Il grande filosofo John Rawls diceva occorre l'ignoranza di quel che potrà accadere quando metti in campo quella legge elettorale. Non è che te la fai per te. Gli americani chiamano l'attitudine che qualcuno può avere a costruirsi la legge elettorale che gli va bene, lo chiamano gerrymandering. Sapete perché? Perché c'era un senatore, il senatore Gerry, il quale aveva la possibilità di cambiare la conformazione del suo collegio elettorale mettendoci dentro quelli che votavano per lui e escludendo quelli che erano contro di lui e quindi quando andarono a disegnare questo collegio su una mappa venne fuori una salamandra. Quindi Gerry la salamandra, gerrymandering ed è diventato il modo che gli americani condannano di approfittare del fatto che puoi modificare le leggi elettorali. Noi in Italia ci abbiamo provato, cioè noi, carità, sempre votato contro io, comunque si è provato a fare le leggi elettorali ad usum delfini come dicono i colti e è andata sempre male. Diciamo che poi porta un po' sfortuna questo perché generalmente chi fa la legge pensando di poi utilizzarla per vincere poi perde. I filosofi, sempre quelli di prima, la chiamano eterogenesi dei fini. Uno sa giusta la cosa per fare le cose come potrebbero essere più favorevoli per lui poi va sempre a finire male. Quindi dovrebbero imparare e una volta per tutte diciamo disporsi per fare una cosa una cosa seria. Restando diciamo ai vizi italici c'è da dire che una legge elettorale porta con sé delle altre leggi ad essa correlate. La legge sulla propaganda elettorale, la legge sulla selezione dei candidati, la legge sul finanziamento dei partiti. Certo. Ecco per usare un termine insomma siamo un po' a caro amico sotto questi aspetti. Siamo molto a caro amico. Lei ha detto bene una legge elettorale non è solo la formula elettorale, no? Che è l'algoritmo, adesso va molto di modo parlare di algoritmo, è l'algoritmo con il quale si traduce il consenso in rappresentanza. Ma una legge elettorale è anche un... si inserisce in un sistema elettorale che è tutte quelle cose che ha detto il dottor Tazzurli ed altre ancora come per esempio il meccanismo delle incompatibilità, delle ineleggibilità, il conflitto di interessi. E purtroppo tutte queste cose importanti oggi non sono state tradotte in un sistema coerente. Insomma non si è riusciti a mettere in campo una legge elettorale come si deve e con tutto quel che appunto la rende possibile nel campo diciamo nella sua dimensione applicativa. Ed è una cosa piuttosto inquietante anche perché, parliamoci chiaro, non è che possiamo andare avanti a botte di cambiamenti di legge elettorale ogni 3-4 anni. Questo è un fattore di instabilità. È un grande fattore di instabilità. Poi se qualcuno si domanda come mai l'Italia è un paese che ha questa instabilità. Basti guardare come non funzionano le leggi elettorali. Esaminando le leggi elettorali le potremmo raggruppare in due grandi famiglie, maggioritario e proporzionale. Si è sempre detto che con il maggioritario si agevola la governabilità, si semplifica la platea dei partiti presenti in Parlamento con una tendenza verso il bipartitismo. Quali sono i punti di fragilità del maggioritario? Guardi, è evidente, le due grandi famiglie a cui lei faceva riferimento sono Nadir e Zenit. In mezzo poi c'è parecchie altre cose che sono un po' maggioritarie, un po' proporzionali. Cioè si mescolano i sistemi. Il sistema maggioritario, come ricordava, è quello che dovrebbe servire per governare. Cioè che succede? Si toglie qualcosa alla proporzionalità pura. Proporzionale significa io ho preso 100 voti e avrò giusto quello che spetta a chi prende 100 voti. Non una rappresentanza in meno, non una rappresentanza in più. Invece maggioritario significa che io ho preso 100 voti ma se il partito mio avversario ne ha presi 101 non prende una rappresentanza quasi uguale alla mia soltanto con uno di più. No, prende la maggioranza assoluta. Perché? Perché con il maggioritario si tende a favorire maggioranze stabili e forti. mentre invece il proporzionale tiene conto di tutte le presenze nel territorio, nel paese, nelle presenze culturali, politiche eccetera. Che cosa non ha funzionato nel maggioritario all'italiana? Non ha funzionato il fatto che non fosse un bipartitismo. Cioè quando noi abbiamo fatto il maggioritario in realtà avevamo dentro una confederazione di partiti da una parte e una confederazione di partiti dall'altra dentro uno schema bipolare ma non bipartitico. Cioè non avevamo i conservatori e i progressisti o i repubblicani e i democratici e basta. Avevamo nella casa dei progressisti, qualcuno ha fatto il conto, l'Urivo all'epoca aveva una quindicina di partiti. Nella casa dei conservatori ne avevamo altrettanti, se non tanti almeno in una quantità simile a questa. Che cosa è successo nel corso degli anni? Negli ultimi in modo particolare è successo che poi è intervenuto un terzo incomodo. Ci sta il polo per così dire dei conservatori, il polo per così dire dei progressisti e adesso c'è anche il polo degli antagonisti o dei populisti. Insomma sapete chi sono, sono coloro i quali si rifanno all'idea dei Cinque Stelle. Quindi è un po' complicata la storia. L'altra famiglia che è quella sinonimo della Prima Repubblica è il proporzionale che garantisce una migliore rappresentanza dell'elettorato, un rispetto delle minoranze, però comporta anche un rischio di ingovernabilità, una frammentazione, una miriade di partiti e partitini. Certo, è quello che dicevamo prima, la famiglia del proporzionale, tanto hai preso, tanti voti hai preso, tanti sono i rappresentanti, esattamente corrispondenti ai voti che hai preso. È vero, questo sistema in linea teorica ha il problema di una frammentazione perché tende a rappresentare tutto quello che c'è nel Paese. Quindi è difficile poi fare maggioranze coese. Nella Prima Repubblica cosiddetta succedeva, dopo è diventato più complicato. Però è vero pure che vi sono correttivi. Per esempio un sistema proporzionale, tanto hai preso, tanto ti porti a casa, può essere corretto con una soglia di sbarramento molto alta o più alta. una cosa è se tu concedi ad un partito del 2%, dell'1% di avere una rappresentanza parlamentare, cosa diversa è se tu dici mettiamo uno sbarramento al 5%, mettiamo uno sbarramento al 6%, al 7%. Quindi tutti i partiti che stanno sotto quella soglia non hanno rappresentanza. Dunque c'è un invito a mettersi insieme e a far sì che la rappresentanza venga attribuita a coloro i quali hanno un, come dire, una presenza nel Paese un po' più significativa. Quindi in assoluto vi possono essere sistemi maggioritari, abbiamo visto come quello, il cosiddetto mattarellum, poi non so per quale ragione in Italia va a finire tutti in um, va a finire tutti in um. No, la ragione c'è, posso dirlo? Prego. No, la ragione c'è, c'era un grande politologo italiano, forse uno fino a poco tempo fa, poi è morto, Giovanni Sartori, il quale quando venne fuori questa legge elettorale nel 1993, che aveva come relatore Mattarella, quindi il cosiddetto mattarellum, dato che lui era un fiorentino addirittura sardonico, non solo sarcastico, urticante, pieno di ironia, eccetera, disse sono talmente ignoranti sti deputati, sti senatori, che sono un po' come quelli che immaginano di parlare in latino e usano il latironum, quindi non sono nelle condizioni di parlarlo in modo corretto, comunque di capirlo, di declinarlo in modo corretto, quindi questo è il mattarellum dal nome del relatore che, guarda caso, è il Presidente della Repubblica attuale, peraltro persona degnissima e anche un costituzionalista di grande livello. Da quel momento in poi, sai, il problema non è stato, esatto, non è stato Sartori, sono stati quelli che sono venuti dopo, io ho visto dei miei colleghi in quest'ultimo periodo, dicevo, ma sai, io sarei felice se questo lo chiamassero Rosatellum, ho detto, ma guarda che quella non è un complimento, cioè che ci mettano l'um finale, è una sorta di presa in giro, o almeno lo era, nell'intento di questo personaggio straordinario che era Giovanni Sartori, tutti in um. Lei ha passato in rassegna nella seconda parte del libro, tutti i sistemi elettorali delle principali democrazie occidentali. Ecco, ce n'è uno che secondo lei potrebbe essere efficacemente trasportato in Italia o forse è il caso di trovare per l'Italia un sistema originale? No, io non ci proverei proprio a cercare sistemi perché ne abbiamo fatti tanti, l'unico sistema che ha dimostrato di funzionare in Italia è quello che hanno levato via, vale a dire, la proporzionale della cosiddetta prima repubblica che oggi viene molto rimpianta, ma ci sono dei sistemi interessanti in giro. Il tedesco, di cui si è parlato più di una volta, è un buon sistema elettorale che ha dimostrato, peraltro devo dire, in un contesto culturale abbastanza peculiare perché i tedeschi sono tedeschi per definizione, quindi sono molto rigorosi, si presume che lo siano. Il tedesco come funziona? La rappresentanza è tutto proporzionale, però la rappresentanza viene data, vado in sintesi estrema, per il 50% attraverso i collegi uninominali, cioè c'è solo un candidato per collegio, si scontrano direttamente i candidati, chi prende un voto più dell'altro passa, quindi viene eletto. Per l'altro 50% attraverso liste proporzionali, quindi liste bloccate, però attenzione, sono bloccate, quindi praticamente le fanno i partiti, però vengono prima scelti dagli iscritti ai partiti, fanno delle elezioni serie all'interno dei partiti per selezionare i candidati. Il sistema tedesco potrebbe funzionare, c'è uno sbaramento al 5% e ha dimostrato di funzionare. C'è un sistema, peraltro, che vi propongo, è un tema su cui riflettere, che è molto lontano, è il sistema australiano, che non c'è dentro i canguri, ma è un sistema così, è a base uninominalistica, un solo candidato, però all'interno del collegio ci sono più candidati, ovviamente, un solo candidato per ogni partito, per ogni lista. L'elettore che fa? Può votare un primo, quindi la sua scelta, la sua prima scelta, ma può fare anche una seconda scelta, perché se il primo non prende il 50% più un voto, non passa, allora si sommano tutte le seconde scelte. Che succede? Passano tutti quelli dei partiti moderati, perché è ovvio, quello che sta troppo a sinistra non voterà mai come seconda scelta quello che sta a destra, quello che sta a destra non voterà come seconda scelta, quello che sta a sinistra si vota quello che sta in mezzo e passa a quello. Una curiosità, un mese fa circa Renzi, Berlusconi, Grillo e Salvini sembravano d'accordo su una legge elettorale, con dei numeri blindati che coprivano più o meno l'80% del Parlamento. Poi che è successo? Come mai è saltato l'accordo? È saltato la prima curva, ed era la curva del voto in aula alla Camera del voto segreto. Il tema era peraltro anche, diciamo, non così dirimente, si trattava di un emendamento riguardante il Trentino Alto Adige. Ma la verità è che il corpaccione della Camera dei Deputati ha voluto dire no a quell'accordo, a quella legge elettorale. Con un voto segreto poi alla fine non sai come si sono mescolati, non capisci mai chi è che è stato, si è schierato in un modo e chi in un altro. Certo è che se non fosse caduto lì sarebbe caduto sul voto di preferenza, perché c'era anche un mio emendamento che chiedeva il voto di preferenza e probabilmente ci sarebbe stata una determinazione in quella direzione. Non ha funzionato questo accordo così largo. La coincidenza oppositorum, per stare nel latinorum, la coincidenza oppositorum non ha funzionato. Troppa conflittualità interna e alla fine la regola del gioco non è riuscita a passare. Io spero, io spero davvero, perché la cosa peggiore sarebbe andare a votare con i due pezzettini, i due lacerti della Corte Costituzionale, di legge elettorale che si sono stati a noi consegnati dalla Corte Costituzionale. Io spero davvero che si riesca a trovare la quadra perché non si può immaginare dopo una quinta legge elettorale, poi una sesta, una settima, dobbiamo dire stop. Ecco io vorrei chiudere questa intervista proprio con una previsione. Secondo lei con quale sistema elettorale andremo a votare l'anno prossimo? Allo Stato dell'arte, ma prendiamo la cosa con un sottolineato, un virgolettato sullo Stato dell'arte. Io penso che la cosa più probabile sia una legge elettorale che rappresenterà un po' l'estensione dell'italicum al Senato, cioè dalla Camera, adesso non entriamo nel dettaglio, ma insomma la Corte Costituzionale ha liberato alla Camera con una sua sentenza uno schema che riproduce l'italicum in una certa misura. Al Senato invece c'è quello che i giornalisti come lui, ma anche come me perché lo sono tutti pure io, chiamano consultellum ed è un altro meccanismo abbastanza dissimile. Sarà necessario coordinarli, quindi evitare che in partenza vi sia una dissonanza così forte e la cosa più probabile è che sia la Camera ad estendersi, ad allargarsi al Senato. Questo io prevedo. E ci sarà una soglia di sbarramento? Attualmente le soglie sono, sì, le soglie ci sarà sicuramente una soglia. Adesso sono un po' controverse perché la Camera avrebbe il 3 e il Senato avrebbe l'8 regionale, un macello. Sarà necessario omogenizzarle. Non sono, non credo di essere Nostradamus, tutt'al più il mago Nicola di Bari, essendo di Bari anch'io, se dico che probabilmente si potrà trovare un punto di convergenza su un 5%. Grazie Pisicchio, grazie a tutti voi, buon proseguimento di serata. Grazie.